Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Adopt Me Oggi finalmente andremo a fare il Lavander Dragon Neon Questo è il mio secondo pet neon, il primo era un cane ma chissà ne frega Prima di iniziare mi raccomando lasciate un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di cliccare sulla campanella per attivare le notifiche Detto questo iniziamo subito Sono appena entrato e già devo ritirare dei soldi quindi bene Vi ricordate che nel penultimo video ho detto di non avere un unicorno invece adesso sono riuscito a scambiarlo e ne ho addirittura uno neon Bellissimo guardate Togliamo subito l'unicorno perché oggi non è il protagonista di questo video ma il protagonista di questo video è il Lavander Dragon Che non vedo l'ora di fare neon No Oh no no vero non devo cavalcarlo qui perché bugga tutto Ah usciamo fuori di casa va Come vedete qui dal mio inventario, ah ho anche ordinato l'inventario perché era un disastro, era davvero un disastro quindi sono riuscito a ordinarlo un po' e ho messo tra i preferiti tutti i pet che ho doppi o comunque voglio scambiare Ultima novità e giuro che poi andiamo a fare il Lavander Dragon Neon Mi sono dimenticato di dire che andremo a fare il Lavander Dragon Neon e poi subito dopo andremo a vedere cosa ci offrono in un server ricco in cambio di un Lavander Proverò ad entrare in uno di quei server super ultra mega ricchi e vedremo cosa ci offrono Dovrei già essere adesso in un server ricco ma voglio entrare proprio in uno di quelli super ricchi Stavo dicendo un'altra novità è che sono riuscito ad avere anche la Turtle Ride Così con questa diciamo che è completato tutti i pet dell'OcEgg quindi Oh no c'è un furgoncino Riprendiamo di nuovo il Lavander Dragon No sbaglio sempre ecco è questo qua Che è Ride Non ne ho uno Fly però vabbè non importa E quindi dirigiamoci subito alla caverna Mamma mia che emozione sono emozionato Il mio secondo pet che faccio Neon proprio io che faccio crescere che faccio Neon Il primo era un cane? Si un cane Era un cane perché era il pet più facile diciamo da fare L'ho fatto per ottenere l'RGB box per fare la task del pet Neon Qua come vedete non ho nessuna missione interessante se non quella di dare una pozione al pet che dopo andremo a fare Niente è arrivato il momento Allora qua abbiamo Nixie Nixie che non ho mai capito non ci ho mai parlato con Nixie Ciao qui ciao C'è l'Oder è un modo di dire ciao E' venuta la mia caverna questa caverna è stata come posto per gli animali per combinare i loro spiriti E per unire la loro amicizia Te lo assicuro se questa magia funziona ancora ma ci puoi provare Oh che carini avvisa che comunque ne dai 4 e te ne esce soltanto 1 Tra l'altro avete visto quanti soldi sono riusciti ad ottenere? Secondo me sono tanti Non li ho comprati eh li ho fatti io giocando al gioco E sto cercando di non comprare nulla perché sto aspettando il nuovo L'uscita del nuovo uovo Non voglio spendere soldi voglio tenermeli da parte in modo che quando esce il nuovo uovo posso comprarne davvero tanti Andiamo a prendere il numero 1 che è questo qua mi sembra che si chiama not for trade Poi mettiamo qui il secondo 3 Manca l'ultimo Ah ho messo il primo come ultimo vabbè non importa siete pronti? 3 2 1 Oddio 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 ecco che compare qua ecco che compare qua Oh mio E' stupendo Ma quanto è carino Direi che è stupendo davvero 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 bello Ok mi viene voglia di chiamarlo bubble Perché adesso mi ricorda Insomma non è più viola quindi che senso ha chiamarlo Chiamiamolo Bubble Per un attimo pensavo non me l'avesse salvato Facciamo subito così Dirigiamoci subito al centro perché dovremmo già essere in un server ricco Credo spero Aspetto davvero poco per entrare in questo server quindi magari un flop E non so in un server ricco Allora no diciamo che Forse si siamo in un server ricco Abbiamo un pappagallo Un unicorno neon che ce l'ho Una king monkey neon Una king bee neon Abbiamo già una richiesta di trade Che si chiama Medidrest 76 Ci offre un mega Bet Ah no ce l'ha addirittura tolto e ci ha aggiunto 4 fury frost Ci ha aggiunto 4 fury frost Che per me No ma grazie lo stesso Skillol 2006 Ci offre la king bee neon Uh ci offre una viverna neon E una scimmia e una scimmia classica neon Non è una brutta offerta Però non è proprio quello che vorrei ottenere da un lavender dragon neon Quindi no Non l'ho ancora detto Ma io credo proprio che il lavender dragon salirà sempre di più Perché è un pet che non molti hanno avuto Magari già sapete è un pet che si otteneva Quinzy Lang ci ha inviato una richiesta ma credo sia sempre quella di prima Ma mi sto sbagliando Stavo dicendo che comunque il lavender dragon si otteneva tramite appunto questo pass Perché è stato un errore Non ho capito bene cosa è successo col dj pass Quindi l'hanno eliminato E chi l'aveva acquistato in precedenza Gli è stato dato un lavender dragon gratis In modo da diciamo ricompensare Quindi secondo me Siccome questo pet non si può acquistare Cioè o lo si ottiene tramite trade o nulla Secondo me questo pet Andando avanti nel tempo salirà sempre 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 di più Oltre al fatto che secondo me è un pet bellissimo Quindi infatti mi sembra che era trentesimo Adesso dovrebbe essere tipo diciottesimo Comunque sale sempre di più Scriviamo Oggi non riesco a parlare Scriviamo trading neon lavender dragon E vediamo cosa Ma l'ho scritto giusto Trading neon lavender dragon Allora Ok Strawberry Choco cat Ci hanno dato una richiesta Di trade E ci offre un corvo Un corvo fly ride Che secondo me È una buona offerta Però vado a controllare sul sito Io gli accetto il primo trade Ma non ne sono sicuro Allora se io vado ad aggiungere Un Lavander dragon Neon Vado a fare una small win Ma è praticamente fair Ve lo mostro Qui Come potete vedere È praticamente Faire Quindi no Secondo me potrei ottenere di più E voi Magari Vi state chiedendo Ma sei pazzo Secondo me Si può ottenere di più Direi di Provare ancora un paio di volte E poi di cambiare server Di andare in uno di quelli Super ultra Mega Pazzeschi Ricchi Sapete quelli nelle caverne Dove ci sono solo pet Neon Bad dragon Ghost dragon No Non ghost dragon Shadow dragon E tutte queste cose assurde E giraffeneon Eccetera eccetera Quindi direi di andare lì No Non mi sembra ci sia nessuno interessato Se non i soliti tre Quindi Direi proprio di Cambiare server Allora ragazzi Sono entrati in un server Di quelli super ricchi Ma ci ho messo tipo pochissimo Tipo Ha provato dieci volte E sono già entrato Quindi mi sembra un po' strano Vabbè Noi andiamo Andiamo a vedere lo stesso Oh No no è ricchissima È ricchissima Ma ci ho messo niente Ma ci ho messo tipo Dieci Ha provato dieci volte E E sono entrato subito Andiamo a scrivere subito Trading Neon Lavander Dragon Il mio computer Come sempre Comincia a fare Rumori Strani Ok La prima richiesta Di Es Q224 Q2 Vabbè Quello insomma Andiamo ad aggiungere Il Lavander Dragon E mi danno Un neon flamingo No In questo server Sono tutti un po' Diciamo Tirchi Non voglio dire tirchi No assolutamente no L'artic no Qua la ce l'ho La Reindeer Non è male Non mi interessa più di tanto Contate che Io per Un Lavander Classico Ho dato Una Reindeer E lo so Ho fatto una cavolata io Però Ehm È solo per Ok mi ha rimettato un'altra richiesta Andiamo a vedere Di nuovo la Reindeer La Fly Ma assolutamente no Ma scordatelo Ok abbiamo Abbiamo un Bat Dragon Ma io faccio la faccia tosta E provo ad offrirgli Il Lavander Ma secondo me Mi manderà In quel posto Che tutti noi sappiamo Ah proviamo a vedere così Gli do Un Lavander Questo E Un Ussi Adesso mi dirà Ma tu sei pazzo Appunto Ho ragione Per Per fare degli scambi In questi server O devi avere dei pet Davvero Allucinanti Tipo Giraffe Neon O Non lo so Davvero pet Davvero allucinanti Oppure Però ho detto Sai Siccome Il Lavander Dragon È diciottesimo Secondo me Potrebbe orientare Nella categoria Cioè c'è gente che qua Ha L'unicorno mega Vabbè Per l'unicorno mega Forse Non lo so Allora qua abbiamo un Parrot Secondo me Small Win Secondo me Quindi andiamo a vedere Secondo lui Non vale un Parrot Secondo me Sì Ok abbiamo una nuova richiesta Da Senpai From PH23 Allora Andiamo ad aggiungere Il Lavander E mi offrono una turtle Ma due turtle Tre turtle Adesso mi aggiungerà La quarta turtle Ah no Nemmeno la quarta turtle Solo tre Ma non esiste Ezie Ezekiel Ci hanno dato una richiesta Mi danno un Neon Dragon Un Axolot Finici che ne ho Già una Neon Non mi interessa Lo Shark ce l'ho L'Axolot ce l'ho Il Drago ce l'ho No Diciamo che Non è che vedo Molti interessati A questo Lavander Dragon Dai ragazzi Ragazzi Fatemi un trade Fatemi un trade Ok Pink Punk Anche 1 2 3 Mi ha inviato una richiesta E direi anche Finalmente Ehi Devo fare lo squid Ok Un Goldorn Lo zombie bufalo Io adoro Lo zombie bufalo Veramente Cioè voglio Lo zombie bufalo Da non so quanto Allora Secondo me Non è orribile Come offerto Il Goldorn Si può ancora trovare Lo squid Lo squid si può ancora trovare Perché devo fare il video Dove apro L'RGB box Il Lavander Dragon Ricordiamoci No No Il Puffin Non ce l'ho Il Puffin Non sono riuscito a prenderlo Quest'anno L'evento Perché i pet di Natale Erano una cosa Allucinante Cioè costavano davvero tanto Adesso vado a vedere sul sito Comunque cosa andava a fare Se era tipo una Una blues Una win O qualcosa Allora No Ero in lose Era lose Quindi small lose Quindi no Ve l'ho detto Cioè secondo me vale molto Molto di più E niente Non mi sembra ci sia nessuno Molto interessato Quindi Direi di concludere qui Questo video E mi raccomando Se vi è piaciuto Non dimenticate di lasciare Un bel mi piace Iscrivervi al canale E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao